Domenica scorsa presso il palazzetto federale di Ostia Lido si è svolto il campionato italiano Juniores dedicato alle categorie femminili di karate. A contendersi le medaglie nelle rispettive categorie sono state le migliori atlete del panorama italiano e tra queste anche la friulana Caterina Dreassi, atleta dell'associazione Karate Club 2003. Caterina è giunta nella capitale con un curriculum importante. È stata infatti vice campionessa d'Italia nella categoria delle cadette nel 2014, oltre a detenere numerosi successi in Open internazionali. Nell'esodio tra le Juniores superiori ai 68 kg, seppur alla prima esperienza in questa categoria, la Dreassi è riuscita ad imporsi sulle contendenti grazie anche agli suggerimenti del maestro Miodrag Subotic. Nel primo match disputato contro Sevda Pompei, la Dreassi si è imposta con un netto 8-0 grazie soprattutto a un inizio di gara spettacolare. Nel secondo incontro, l'atleta si è trovata di fronte Ilenia Dellissanti e si è imposta con eleganza ed un ampio bagaglio tecnico, conquistando il match per 4-0. Nel terzo incontro, in una finale anticipata, Caterina si è trovata di fronte alla campionessa d'Europa Clio Ferracuti della Polizia di Stato. Ne è uscito un incontro teso e molto chiuso, nel quale entrambe le atlete non hanno voluto esporsi a rischi eccessivi. E nei momenti conclusivi del match, con un attacco simultaneo, è stata l'atleta laziale ad avere la meglio con la maggioranza delle bandierine a proprio favore. Il match si è concluso con una sconfitta di Caterina per 1-0. In seguito, la Dreassi ha disputato l'incontro per la medaglia di bronzo nel quale si è contesa il terzo gradino del podio con Arianna Asta, in un match difficile concluso su 3-2 per verdetto dei giudici a favore della Sampierina. In quest'ultimo match, Caterina ha subito la frattura del dito medio. Nonostante ciò, l'atleta ha lottato fino all'ultimo ed è riuscita a concludere a suo favore l'incontro per la medaglia di bronzo. L'infortunio costringe la Dreassi a saltare l'Open di Campania in programma nel prossimo mese. In ogni caso, a Ostia, la Dreassi si è confermata tra le atlete più complete e competitive del panorama nazionale.